Questo video è dedicato a Marchisio. Marchisio, 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 tu sei Claudio, anche Marchisio? Perché, infortunato, ha letto, Claudio Marchisio ha detto, è tempo di crozza, crozza time, e allora io dico, è tempo di Marchisio, Marchisio time, perché la Juve ha bisogno di Marchisio. E io studio da Marchisio, mi sono immaginato Marchisio, e nel campo alza la palla, Marchisio, Marchisio la passa a Pogba, ah no, Pogba è andata al Manchester United, non importa, la passa a chi? A Higuain, il mio acquisto, che fa tutto da solo. Allora lui riprende la palla, la riprende, va, se ne scarta uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, Marchisio, 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 torna indietro, perché è un buono, perché si è fatto male. E' terminato il Marchisio, è un poeta, Marchisio, un poeta, Marchisio, vedi un po' di guarire, perché non posso palleggiare, finché non guarisci, Marchisio, no! Guarisci Marchisio. Guarisci Marchisio.